Caro FBI, benvenuto in questo video dedicato al Camp Buddy. Questa è la perfect run tra Catero e Hunter Springfield, sì, proprio come la città dei Simpsons. Tuttavia, caro agente dell'FBI che mi sta guardando, sappi che Hunter è assolutamente maggiorenne. Anche se sembra un ragazzino delle medie, ti assicuro che ha 18 anni compiuti, che quindi non mi dovete assolutamente arrestare. Grazie mille, ciao! Cari amici, benvenuti in questo video dedicato al Camp Buddy. Questa è la perfect run con Hunter, come ho già detto alla gente dell'FBI. Non mi hanno ancora arrestata, quindi spero di poter proseguire con questo video. Qualche settimana fa abbiamo visto insieme una scena d'amore tra Hunter e Natsumi. Non mi hanno ancora arrestato, perciò proseguirò. Il che significa che adesso tocca a Catero avere dei pensieri un pochino farfuglianti su Hunter. È il settimo giorno al Camp Buddy e stanno per succedere cose, perché fuori sta piovendo e non ha proprio senso avventurarsi. Soltanto Natsumi si è avventurato fuori, ma non ce ne frega nulla in questa run in particolare, perciò Catero si è appena svegliato e non sa che cosa fa della sua vita. Ovviamente la cosa giusta è farsi una doccia. Meglio che mi lavi e poi vada a vedere cosa hanno fatto tutti gli altri. Te lo dico io, Natsumi è fuori sotto la pioggia, Iro sta cucinando con Aiden e Yoichi sta ancora dormendo. L'unico che si lava qui pare che sia Hunter. Di mattina Natsumi si lava dopo. Ah, comunque, prima che Catero vada a farsi la doccia e a vedere le chiappe nude di Hunter, ops, spoiler, sappiate che d'ora in poi mi vedete sempre col pigiama. È iniziata la stagione del pigiama e fino a maggio questo sarà il mio outfit. Cambierà pigiama, ovviamente, ma sempre di pigiama si tratterà. Vediamo dove ho messo i miei... Oh, ciao Catero! Oh, Hunter, non mi ero accorto che tu fossi qui, perché Hunter è tipo il fantasma che tutti vedono, ma nessuno sarà dove arrivi. Eh, mi stavo giusto per cambiare. Oh, guarda, ti stavo giusto cercando. Ma quando mai, Catero? Ma perché? Ma davvero? Cercavi me? Sì, è che mi sono svegliato e non riuscivo a trovarvi, perciò ho pensato di farmi una doccia e poi venire a cercare. Chissà, magari oggi abbiamo qualche attività da fare. E non volevo assolutamente andarci senza un amico. Eh, sì, giusto. Dai, cambiamoci subito. Io ando a fare la doccia in quel cubicolo là dentro. Aspetta, non te ne andare. Voglio dire... No, no, ok, ok. Puoi cambiare i vestiti anche tu qui, se vuoi. A me no, non dai fastidio. Ah, ok. Ah! Ah! Censura! 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 Oh mio Dio, l'FBI! L'FBI mi arresta! Ma come li convinco, gli agenti dell'FBI, che questo c'ha 18 anni? Non esiste, non esiste, non esiste. Mi arrestano, mi arrestano, mi arrestano. Poi mi dovete portare le arance in carcere. Che cosa dicevi, Hunter? Ti sei svegliato piuttosto tardi oggi, Keitaro. Eh, sì! Eh, eh, eh! Hunter si sta veramente denudando di fronte a me? So che lui è un ragazzo piuttosto timido, eppure non si imbarazza per niente a denudarsi davanti a tutti come ha fatto Yei nella doccia. Mi fa venire i brividi, Keitaro. Non mi ero mai reso conto di quanto Hunter fosse carino. Quella pelle così pallida, e soffice, e liscia. Mi fa venire voglia di... Popi, Popi! Keitaro! Scusami, scusami! Non è così tipico vederti con la testa a fare le nuvole? A cosa stavi pensando? Al tuo culo! No, volevamo dire. Eh, erata le risposte, comunque. No, dobbiamo dire un'altra cosa. Stavo pensando a quanto sei carino, ovviamente. Se devo essere sincero, stavo pensando a quanto sei carino. Oh mio Dio, ho detto alta voce! Spero che non lo trovi troppo strano. Ah, davvero? Eh, non so cosa dire. Io... Anch'io penso che tu sia carino. Eh? Io, ehm... Oh, no. Adesso sì che siamo tutti in imbarazzo. No, no, no. Via, via. Cambio discorso, cambio discorso. Dai, Hunter. Svestiamoci e laviamoci, ok? Ok. Ok. Meno male, meno male che si sono lavati e basta, per favore. Bravi, rivestitevi. Ok, ho finito. Ah, no, aspetta, ma adesso vado avanti io, se non ti dispiace. Vorrei chiedere gli scoutmaster se mi prestano un loro libro. Bye. Ci sentiamo dopo, Keitaro. Ma certo. Eh, che momento imbarazzante. Stare lì imbambolato a guardarlo mentre si spogliava. Però devo ammetterlo, ha veramente un bel sederino, Hunter. Mi ha fatto venire voglia di... Ah! Perché sto facendo questi pensieri sul mio amico? Ma che problemi ho oggi? Non dovevi pensare a queste cose, non sul mio amico. Dai, Keitaro, concentrati. Concentrati, magari una colazione ti aiuterà a schiarirti le idee. Meglio che vada alla mensa e buonanotte. Sì, per il bene di tutti quanti, Keitaro, veramente. Ovviamente io non ho niente contro Hunter, è un tesoro, voglio dire, gli piace disegnare, gli piacciono le cose carine come i coniglietti, è una persona timida, gli piace la lettura. Però diciamo che il suo design mi fa pensare un pochino troppo all'illegalità, ecco. È solo un problema di character design. Se me lo facevano più alto e un pochino più peloso andava tutto bene, ecco. Sembra che neanche gli altri siano già arrivati. E allora la colazione la faccio da solo. E vabbè, qui chiacchiere, chiacchiere, tutte cose che abbiamo già visto. E c'è Taiga, quante volte devo ancora odiarlo, Taiga. Oh cavolo, la prossima run è la sua. Brividi. Senti, loro sono i tuoi amici, quindi smetti di dire cose cattive e facciamo il minigame del diario. Vi ricordo che i primi giorni di gameplay sono quelli che determinano la persona con cui avrete la ship. Infatti qui ci stiamo già avviando verso la ship con Hunter. Invece dal giorno 8 in poi verrà determinato il vostro punteggio finale, cioè se otterrete un finale buono, cattivo oppure perfetto. Io, grazie al Camp Buddy, ho incontrato tante nuove persone e mi sono fatta un sacco di amici. Vorrei farmi un amico in particolare. In questo momento Iro suggerisce che forse avrebbero dovuto scegliere un altro campeggio, ma no invece. Io non voglio perdere nessuno dei miei amici, né quelli vecchi né quelli nuovi, perciò continuiamo a essere gentili. Ah, c'è la competizione oggi, giusto, mi ero scordata della compet... Oh no, oh no, la competizione, lo sappiamo tutti cosa succede alla fine di questa competizione, vero? Vero che lo sappiamo tutti? Eh, vinceremo noi la competizione, Taiga, quindi è inutile che fai le scommessine, tanto la spuntiamo noi e il leader della nostra squadra dovrebbe essere una persona calma e composta. Come il piccolo, tenero, dolcissimo Hunter. Qualcuno che possa gestire ogni situazione in modo calmo e che resista bene alla pressione. Beh, Hunter è un tipo che riesce ad analizzare in maniera molto calma le cose. Sì, sarò anche calmo, ma non so se sono adatto a essere un leader. Però apprezzo che tu vedi il mio potenziale, Keitaro. Tuttavia, credo che dovesti essere tu il leader. Sei sempre tu quello che ci tieni uniti alla fine. Sì, sì, sono d'accordo. Ok, nessuna obiezione. Sì, va bene, mi va bene prendere ordini da Keitaro, tutto sommato. Ok, allora è deciso, Keitaro sarà il nostro leader e arriva il momento della gara. Tuttavia, anche dopo aver assegnato i vari ruoli, c'era una persona che sembrava aver bisogno di un aiutino extra da parte mia, da parte del suo leader. Piccolo Hunter, non c'è niente di cui aver paura. Lo so che è brutto gareggiare con il pensiero che questo posto chiuda per sempre e che non potremo magari passare la nostra estate insieme anche il prossimo anno. Ma non c'è niente di cui dobbiamo essere preoccupati in questo momento, perché in qualche modo daremo il massimo. Oh, ragazzi, siete pronti? L'altra squadra lo è, quindi spero che siate pronti a cominciare. Certo, signor Aiden, siamo prontissimi. Benissimo, allora i primi partecipanti si preparino. Cominciamo con l'arrampicata sulla parete. Hunter, vai, è il tuo momento. Ah, ok, sono il primo. Dai, lo so che ce la puoi fare, Hunter. Sì, esatto, fai vedere a tutti che c'è gli attributi. Ok, un po' meno pressione, ragazzi, dai. Hunter, la cosa importante è che tu faccia del tuo meglio, nient'altro conta davvero. Ma se perdo? Nessuno di noi penserà mai di te, neanche se perdi. E dai, campanellino, pensi veramente che ce ne faremo un problema se perderai? Esatto, non siamo mica il team di taiga, noia. Dai, reattacchatoro, davvero. Fai del tuo meglio e andrà tutto bene. Va bene, allora è meglio che mi metta in posizione adesso. Faremo il tipo per te dalla panchina, quindi buona fortuna, Hunter. Hunter, sei ancora nervoso, povero tesoro. Oh no. È che non so se ce la posso fare, non sono bravo nell'attività fisica io. Avevo dovuto leggere qualcosa in più su queste attività quando avevo l'opportunità di farlo. Tranquillo, Hunter, non ti devi preoccupare, sai? Lo so che oggi siamo qui per fare colpo sugli Scoutmaster, però non lasciare che la persona ti distrugga. È che se non vinco questa partita partiremo in svantaggio. E poi finirei pepe della scommessa e gli Scoutmaster saranno dispiaciuti e... Hunter, anche meno, anche meno. Hunter, ti devi fidare di me. Ti fidi di me? Ti fidi di me? Cosa? Ma certo che sì, Keitaro. E allora fidati quando ti dico che ce la farai. Thank you. Grazie, Keitaro. Hai sempre le parole giuste per me. Sono felice che tu ti sia tolto questo peso dal petto. Keitaro? Sei veramente un bell'amico, Keitaro. Avrei voluto conoscerti tanto tempo fa. Meglio di no, Hunter. Non ce l'hai neanche adesso, 18 anni, se lo conoscevi ancora prima. Qui era la volta buona che mi chiudevano proprio in gatta buia per sempre. Beh, meglio tardi che mai, no? Adesso vai, dai. Sono anch'io tanto felice che ci siamo incontrati. Oh, guarda un po' chi è il tuo avversario, è Felix. Ah, ok. Qualche problema, Hunter? No, è che Felix ed io andiamo molto d'accordo. Siamo praticamente sulla stessa lunghezza d'onda rispetto agli altri ragazzi di questo campeggio. Il fatto è che nessuno dei due è un grande atleta, quindi non so proprio come andrà questa gara. Ah, devo andare Keitaro, devo andare, devo andare. Dai, buona fortuna Hunter, contiamo su di te. Non glielo doveva dire. Faremo il tifo per te da laggiù. Grazie Keitaro, ti prometto che farò del mio meglio. E così iniziano le gare. Ok ragazzi, siete pronti? Oggi inizia ufficialmente il Camp Bud di Summer Sport Fest. O stato dal vostro carissimo Aiden Flynn. Per le prime due squadre in competizione abbiamo la cabina 1, la squadra di Keitaro contro la squadra di Taiga. La prima parte di questa gara verrà fatta arrampicandosi sulle rocce. Ciao Felix. Oh, ciao Hunter. Che sorpresa averti proprio come mio avversario, in realtà un po' mi fa piacere. Anche a me a dire il vero. Contro qualche altra persona di questo posto sicuramente avremmo perso. Sì, ho pensato la stessa cosa. Allora buona fortuna a entrambi, dai, le nostre squadre contano su di noi dopo tutto. Ok. Va bene, Felix ha ragione. Anche se dobbiamo fare qualcosa che nessuno di noi due sa fare bene, le nostre squadre contano su di noi per fare del nostro meglio. Soprattutto Keitaro, non lo deluderò. Benissimo ragazzi, ai vostri posti. Pronti e via! Sembra che entrambi i due partecipanti abbiano una partenza lenta ma molto efficace. Una giusta scelta. Sbrigarsi troppo con questi primi passi vorrebbe dire semplicemente cadere. Hunter sembra molto teso. Continua a guardare giù, magari ha paura di cadere. Oh, campanellino! Non mandare tutto all'aria. Ragazzi, non aiuterà se siamo così tanto ante. Dobbiamo fare il tifo. Sembra che i due partecipanti siano molto vicini. Non riusciamo a vedere ancora un vincitore. Oh, sembra che uno di due però abbia raggiunto una parte più alta dell'arrampicata. No, no, ho paura, non ce la posso fare. Dai, Felix, vai lassù, che problemi hai? Eh, no, sta scivolando, sta scivolando. Questo potrebbe essere un disastro per la nostra squadra. Eh, dai, non farti bate da quel gamberetto. Non possiamo lasciarli vincere. Felix sta cadendo. Felix sta restando indietro. È la mia opportunità? Ma? Se scivolo rovinerò tutto quanto. Non voglio che succeda. Non voglio che Keitaro... Ci sei quasi, Hunter, so che puoi farcela. Ah, quella è la voce di Keitaro. Ha ragione. Visto che lui sta contando su di me, non posso far altro che andare avanti senza paura. E abbiamo un vincitore. Congratulazioni, Hunter Springfield, della scuola di Keitaro, per aver vinto il primo round. Bravo il nostro piccolo Hunter. Bravo. La cosa che mi preoccupa è la ricompensa che gli darà Keitaro a fine giornata. Ah, ah, fiatone, fiatone. Hunter, ce l'hai fatta. Oh, Keitaro, grazie per aver fatto il tifo per me. Bravo, Hunter, lo sapevo che ce l'avresti fatta. In effetti abbiamo avuto fortuna perché Palla di Neve si è congelato a metà strada. Esatto. Felix non è arrivato neanche alla fine. Se continuiamo così, vinceremo in un istante. Ma lo spero, il resto della competizione pare parecchio dura. Non possiamo certo abbassare la guardia. Hai ragione, Edward, Taiga e Seto e lì sembrano abbastanza pompati dopo questa sconfitta. Non credo che gli altri match li vinceremo troppo facilmente. Dai, non dire così. Faremo del nostro meglio e faremo come ha fatto Hunter. Abbiamo vinto già il primo round, voglio dire potremmo rifarlo. Ha ragione Keitaro. Il motivo principale per cui mi sono spinto fino al limite è perché sapevo che voi stavate facendo il tifo per me. Ho fatto in modo di non lasciarvi delusi, ecco. E adesso Yoichi e Iro si mettono a litigare su chi vincerà il prossimo punto. Sì, va bene, va bene. Litigate quanto volete. Guarda, anzi, formate anche una coppia che sareste pure carini, visto che al momento ci sono Keitaro e Hunter fuori dai giochi, eh. Allora ragazzi, guardate un po' chi abbiamo qui, congratulazioni Hunter per la vittoria. Vincerò prima io. No, vinco prima io. Eh, che hanno questi due? Niente, vogliono semplicemente litigare su chi sarà il prossimo a prendere un punto di vittoria. Lasciamoli fare se Raiden è, sono sempre così loro due. Ok. Comunque sia, ero qui per fatti le congratulazioni Hunter. E anche per chiedere ai prossimi partecipanti dipende dalla posizione, è il momento della seconda gara. Con la prima gara vinta da Hunter, Yoichi era il prossimo. Fino all'ultimo secondo è stato a litigare con Iro, chiamandolo in nome assurdi. Ovviamente. E Yoichi ce l'ha fatta a smetterla di litigare con Iro, giusto per andare alle sbarre e gareggiare contro Edward. Ma proprio un attimo prima di arrivare al traguardo si è girato e ha detto a Iro, te l'avevo detto! Iro si è arrabbiato, ha cominciato a insultare Yoichi e anche Yoichi ha cominciato a insultare Iro. E abbiamo cercato di, come si può dire, far fare loro la pace, ma alla fine Edward li ha recuperati. Il problema è che mentre Yoichi litigava con Iro, Edward stava recuperando terreno e non c'era verso di calmare Yoichi. E alla fine si è fatto battere Yoichi e Edward ha vinto, un po' come la cosa della lepe della tartaruga. E quando poi è tornato a posto, Yoichi ha cercato di nascondere il suo imbarazzo, ma continuava a prendersela con Iro. E con il punteggio ormai diventato in parità, Iro era il prossimo a dover gareggiare. Aveva una gran voglia di vincere, perciò Iro voleva provare assolutamente a Yoichi di essere meglio di lui e ha corso più velocemente che ha potuto durante la gara di corse a ostacoli. Lui e Ioichi sono sempre in competizione, più tra di loro che con alta gente. E entrambi vogliono sempre primeggiare nelle attività che fanno. Ma con questa rivalità in atto, Yoichi ha cominciato a chiamare Iro con vari insulti fantasiosi, per assicurarsi che Iro non vincesse. Insomma, alla fine Iro si è distratto, si è deconcentrato, è inciampato sull'ultimo ostacolo e abbiamo perso il nostro secondo punto. Iro ce l'aveva a morte con Yoichi quando è tornato, perciò quei due hanno cominciato a darsene di santa ragione, o almeno verbalmente non ci si può picchiare al camp buddy. Per qualche motivo me l'aspettavo che le cose sarebbero andate così. Veramente due attacca briga tremendi, questi due. Ora tocca a Natsumi da giusta la situazione. Alla fine Natsumi ha sgridato alla grande questi due balorti che hanno fatto perdere alla squadra ben due punti, anche se avevano praticamente vinto. E a proposito di Natsumi, era lui il prossimo a dover gareggiare. Natsumi non voleva assolutamente perdere la gara, altrimenti avremmo dato la vittoria al nemico, perciò si è spinto fino al massimo dei suoi limiti. Per lui perdere non era assolutamente un'opzione. Il suo avversario era Seto, anche lui un bravissimo nuotatore, ma Natsumi era troppo veloce anche per lui e prima che ci rendessimo conto, la gara era finita e Aiden ha dichiarato Natsumi il vincitore. Sapendo che finalmente la squadra aveva una nuova chance di vittoria, Natsumi è stato ampiamente abbracciato da tutti per la sua performance. Mannaggia Hiro e mannaggia Yoichi! Ma adesso la pressione è tutta su di me. Non mi aspettavo che le cose sarebbero andate in questo modo, ma ormai non c'era più tempo di guardarsi indietro. Non potevo sprecare così gli sforzi dei miei compagni di squadra, cioè di Natsumi e Hunter. Eccoci li siamo con Taiga. Oh, sembra che ormai ci siamo soltanto noi due. Ovviamente l'avversario di Keitaro per questa gara è Taiga, neanche a farlo apposta. E ovviamente ancora Keitaro è qui che si chiede come fare a recuperare le cose. Aiden sta facendo il conto alla rovescia per cominciare la gara, invece Keitaro è qui che si fa i filmini in aria per come recupererà il rapporto con Taiga. Partenze via! Ecco, bravi, andate a gareggiare che non vi sopporto già più. Ah, Keitaro! Arrenditi e basta! No! Devo farlo per i miei amici che contano su di me! Che amici! Non dire sciocchezze! Non ti sei accorto che qui dentro tutti quanti ti stanno soltanto usando? Sei soltanto una scusa che tutti quanti utilizzano per sentirsi meglio verso se stessi! Ma stai dicendo cavolate! Siamo tutti qui gli uni per gli altri, nella buona e nella cattiva sorte. Perciò non mi arrenderò a qualunque costo. Non hai ancora capito tutti quanti ti volteano le spalle appena farai un piccolo errore? Non importa se vinco o perdo, l'importante è che faccia del mio meglio. Non è per quello che sei qui anche tu? So che stai facendo il tuo meglio per una buona ragione. E so che da qualche parte dentro di te c'è un po' di gentilezza. Ma che cavolo dici? Basta, adesso ti batto, non rompere. E quando finalmente fallirai, vedrai la realtà per com'è veramente, proprio come l'ho vista io. Sì, vabbè, basta, non ci ho vado di litigare con sto rintronato, eh. Ora è il momento che ci provi a vincere, buonanotte a tutti. Dai, vedo quasi la cima, ce la posso fare. Keitaro! Oh, bellino lui. Hunter! Credo in te, Keitaro, ce la puoi fare. Hunter sta facendo il tipo per me. Quando sono arrivato al Camp Buddy, Hunter era così timido. Invece adesso è lì che parla e condivide i suoi pensieri. In solo una settimana. E adesso che lo sento gridare il mio nome, soltanto per fare il tipo per me, Hunter è veramente uscito tanto dal suo guscio. Ci conosciamo da così pochi giorni, ma i momenti che ho passato insieme a lui mi sembrano già speciali. Ecco perché voglio dare il massimo anche stavolta. Voglio farti capire, Hunter, quanto i tuoi sforzi sono importanti per me. E abbiamo un vincitore! La squadra di Keitaro! Keitaro! Wow! Non ci posso credere, ce l'abbiamo fatta! Keitaro, ce l'hai fatta! Abbraccia Keitaro, bellino. Oh, Hunter ti abbraccia! Forse avevo ragione, ho capito bene, forse gli piaccio davvero. Oh, è così caldo, che bella sensazione! Grazie Hunter! Sentirti che facevi il tipo per me, laggiù, per me è stato veramente importante. Oh, sono sorpreso che tu sia riuscito a sentirmi! Però sono felice di esserti stato d'aiuto da lontano. Ah, e volevo ringraziarti, se non fosse stato per te io non so se avrei mai finito la mia gara. Volevo soltanto che tu lo sapessi, che sei una delle motivazioni più grandi per cui sono riuscito a vincere. In qualche modo, sentirti lì così vicino mi ha fatto capire che potevo farcela. E sentirti che facevi il tipo per me è stato veramente importante per spingermi fino al massimo. Hai fatto un ottimo lavoro, Hunter. Gli hai fatto pat patte così sulla testa. Keitaro! Sei stato bravissimo! Esatto, hai fatto a pezzi quello scemo. Eh sì, eh che bella vittoria, non ci posso credere. Era abbastanza nervoso per colpa di quei due punti che abbiamo perso. Due punti, due cretini. Oh, non è colpa mia se l'uomo lupo faceva altro che distrarmi chiamandomi in un sacco di nomi strani. Ero quasi arrivato al traguardo. Stai zitto, testa rossa. Io perso la mia gara perché tu non riuscivi a tenere la boccaccia chiusa. Eh vabbè, la smettete per favore, un attimino. Hm, scusate. Eh, sì, quello che ha detto lui, eh. No vabbè, fa niente ragazzi. Alla fine abbiamo avuto una buona partenza, un buon finale, tutto grazie ad Hunter. No, 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 ho soltanto avuto fortuna, davvero. E dai, Hunter, non essere così modesto. Lo sappiamo che le attività fisiche sono molto al di fuori della tua zona di comfort. Siamo tutti molto fiedi come ti sei comportato. Grazie. È tutta colpa vostra. E adesso Tyga se la sta prendendo con Seto e Felix, ovviamente. Esatto, come avete osato deluderci così tanto. Se non avevate intenzione di impegnarvi a fondo, perché avete partecipato a questa gara? Scusatemi, ci ho provato a vincere, ma... Non c'è bisogno di perdere, Felix, e guarda, non c'è bisogno di scusarsi. Abbiamo fatto del nostro meglio, fine. Ah, sì, eh. Secondo me ci avete sabotato per lasciar vincere gli altri. E non puntare quel dito contro di noi, anche tu hai perso la tua parte della gara. Seto, calmino, eh. Non stai aiutando. Oh, ma chi se ne frega, questi ragazzi sono troppo pieni di loro stessi, soprattutto lui. Come osi? Tyga mi sembra arrabbiato, Seto, forse è meglio se ci leviamo di torno, eh. Esatto, andiamo a farlo con gratulazioni a Keitaro. Almeno lui non è un cretino come Tyga. Cosa hai appena detto? Non lo sapete che anche voi avete appena perso una scommessa contro Keitaro? Che scommessa? Quello scemo di Keitaro adesso vorrà vederci tutti quanti umiliati davanti a tutto il Camp Buddy. Esatto, lui è veramente un bullo. Capito? Il vostro amichetto vuole vedervi umiliati. E qualche altro insulto che non vi sto a tradurre. Perché davvero Keitaro è così. Tyga, è il momento di riscuotere e di pagare pegno. Ciao, abbiamo vinto, eh. Ci hai dato la tua parola. Adesso devi mantenere tutto l'accordo. E che cosa vuoi? Che mi inginocchi e ti baci i piedi? Oh mio Dio, non sono pronta all'umiliazione simile. Non ci posso credere. Che cosa imbarazzante. No ragazzi, voglio far fare una cosa soltanto a Tyga. Ma non funziona così. Non farò niente di così stupido. Non la volevo fare questa scommessa io. Guarda che l'hai voluta te questa scommessa fin dall'inizio, eh. E sei tu che hai proposto che la squadra vincitrice poteva fare quello che voleva dell'altra. E hai detto queste parole, Tyga. Non ci si può rimangere la parola data. Ok, te lo dai, fallo ballare nudo, mentre si chiama escemo da solo. Davanti a tutti gli scoutmaster sarebbe troppo divertente. Invece, se vuoi prenderlo a pugni in faccia, lascia che ci pensi io. Ti assicuro che lascerà un bel sogno. No ragazzi, niente del genere. Perché? Hai pietà di me per caso? Pensi che se mi lasciai andare per stavolta, a quel punto le cose cambieranno fra noi due? Pensi veramente che non posso affrontare qualunque cosa tu abbia in serbo per me? Te lo dico io. Questa è l'unica chance che avrai di farmi qualcosa, perciò assicurati di non sprecarla. Beh, senti, se ti picchiassi non sarei troppo diverso dai ragazzi dell'anno scorso. Perciò non voglio fare una scenata. Voglio fare la cosa giusta. Ma che cavolo stai dicendo esattamente? Tyga, per riscuotere la mia vincita, in questa scommessa voglio che tu chieda scusa per tutte le cose brutte che hai detto, da quando siamo arrivati. Voglio ricominciare da capo, voglio che siamo amici. Tyga, forse è una buona idea, sai? Beh, sì, alla fine così non ci sentiremo più degli immaginati. Va bene, chiedo scusa. Ma lasciatelo dire, l'hai veramente sprecata questa vittoria e non saremo mai amici. Mi assicurerò di non perdere mai più contro di te. Tyga, aspettaci! Tyga, tutto bene Keitaro? No, no, fa niente, sto bene. Non capisco proprio che problemi abbia quel ragazzo. È veramente cocciuto. Eh sì, è stato cattivo anche con me e con Seto. Sarebbe stato molto più bello prendersi gioco di lui. Certo che almeno un pugno in faccia me lo potevate far dare, eh, voglio dire, se lo meritava. Dai ragazzi, per favore non dimenticatevi quello che ha detto Keitaro. Ha fatto la cosa giusta, non volessero prendere con Tyga. Ha fatto capire che può essere meglio di così. Esatto, non dobbiamo lasciare che questa cosa ci scoraggi troppo. Abbiamo fatto del nostro meglio per far vedere ciò di cui è capace il camp buddy. Spero che questo basterà a Goro per capire che lo Scott Master Yoshi si è impegnato a fondo con noi. In effetti sì, quando ho visto tutti quanti dare il massimo ho pensato la stessa cosa e mi è venuto voglia di impegnarmi anche a me. Lo so che Tyga è abbastanza ragionevole in questo periodo, ma prima o poi capirà. Ah ragazzi, sono felice di sentirvelo dire. È bello vedere che tutti quanti siamo pronti a ripartire. È tutto grazie a te Keitaro. Se non fosse stato per te probabilmente non avrei mai pensato di dare a Tyga una seconda possibilità. Esatto. Sono molto sorpreso dalla maturità che ha dimostrato a gestire questa cosa. E io sono molto grato di avere un amico come Keitaro. Ah, basta con queste smancerie. Ehi, guarda un po' chi abbiamo qui. Gli Scout Master vi hanno osservato e posso dire che sono molto colpiti. Perciò adesso sedetevi, rilassatevi e godetevi il resto delle competizioni con gli altri ragazzi. Cabina 2 in posizione. E così la gara continuò e tutti gli altri ragazzi continuarono a competere gli uni contro gli altri, mostrando entusiasmo e sportività. Tutti quanti facevano il tifo, si divertivano con le attività speciali preparate da Yoshi. E sicuramente posso dire con certezza che gli Sport Fest del Camp Buddy sono andati molto meglio di quanto mi aspettassi. Posso avere la vostra attenzione ragazzi? È stata una giornata spettacolare per tutti quanti questa. E come vostro Scout Master non potrei essere più fiero di ciascuno di voi per aver esibito un così bel lavoro di squadra e una bella sportività. Queste attività speciali non sarebbero mai state possibili senza la vostra cooperazione. E poi qui abbiamo Yuri che chiede a tutti quanti di pulire la corsa a ostacoli perché è abbastanza lurida adesso. Scommetto che per voi non ci saranno problemi, vero? Yuri, ma sono esausti? Yoshi? No Yoshi, va bene, tu hai già fatto abbastanza per oggi, lascia che ti aiutino i ragazzi, ok? Ok, grazie Yuri. Non ti preoccupare comunque, mi assicuro di cucinare qualcosa di super speciale per rifocillarli più tardi. Sicuramente saranno tutti super affamati per le pulizie, per non parlare delle gare, dei salti, tutto quello che hanno fatto. Ok ragazzi, prendete l'equipaggiamento per pulire e rimettiamo a posto questo posto. Che bello, gli Scout Master sono colpiti da come ci siamo comportati oggi. Il tuo piano ha funzionato alla grande, Ketaro. Immagino che quel vecchiaccio di Goro cambierà idea sul chiudere il Camp Buddy. Grazie a tutti ragazzi, spero che con quello che abbiamo fatto Goro rifletterà un po' di più sulla sua decisione. In effetti pensarci troppo non ci sarà d'aiuto, l'importante è aver fatto quello che abbiamo fatto. Esatto, comunque sì, la giornata non è ancora finita, dobbiamo aiutare gli Scout Master a ripulire. Gioichi mi aiuti, ti ha pulito l'equipaggiamento? Chiedilo a Cambelli, no all'uomo rana, ad aiutarti. Ma pensavo che i tuoi muscoli mi sarebbero stati d'aiuto per portare in giro un po' di cose pesanti. Posso aiutarti io, Natsumi? L'abbiamo già visto alla gare delle sbarre che i muscoli di Gioichi sono soltanto per bellezza. Stai zitto, testa rossa. Tu non sapessi sollevare niente di più pesante delle tue gambe secche. Ti farò vedere io, aspettami qui. Oh, ho detto che l'aiutavo prima io. Vabbè, vabbè, niente, eh, quei due non si stancano mai, eh, nella vita. Scusatemi ragazzi, devo assicurarmi che quei due non si vadano a spaccare o non spacchino qualcosa. Certo, Natsumi, noi troveremo molto da fare. Ok, torno subito. Ma guarda un po', le dinamiche sono cambiate. Il mio amico si è allontanato e il suo innamorato è caduto dalle braccia di un misterioso straniero. È vero, lei shipava Hiro e Keitaro la mia prima ship. Oh, Scout Master Yuri, di che accidenti sta parlando Keitaro? Nulla, penso che sia una delle sue fantasie a occhi aperti. Che fantasie? Oh, guardalo, il bel forestiero timido e straniero che viene protetto da questi maliziosi intenti della Scout Master e dal suo forte amico bellissimo. Ok, lasciamo che anneghini i suoi ormoni. Scommetto di saperlo, chi è il top di questa relazione? Il top? Yuri, ti serve aiuto per qualcosa? Non lo so, vuoi un po' di volume? Oh sì, in effetti sì. Beh, Aiden sta finendo di svuotare la piscina. Non è che potesse dare una mano per pulirla un po'? Ci sono parecchie fogliacce sul fondo che dovrebbero essere raccolte. Sì, ok, facciamo noi. Dai, Hunter. Ok. E si sono messi a spazzare, spazzare, ho detto spazzare, non l'altra cosa. Ok, direi che abbiamo fatto, Hunter. That's right. Ok, tutto pulito. Grazie per l'aiuto. Ma ti pare, Keitaro? Ti senti stanco, per caso? Non sapevo che fossi così un gran lavoratore. Tutto bene, Keitaro, sono felice di poterti aiutare. Ah, ci siamo sporcati un sacco mentre facevamo le pulizie qui. Sì, forse è meglio se ci facciamo un bagno insieme. Se la cosa non ti imbarazza, voglio dire... No, no, Hunter, che dici? Allora, sai, l'altro giorno tu sembravi un po'... Ecco, quando abbiamo fatto il bagno tutti insieme, mi parevi... Non sapevo se magari c'era qualcosa che non andava. Ah, mi sa che Hunter non ha capito cosa ho fatto nella doccia. Ha capito benissimo, è solo che lui non te lo vuole dire. Ma aspetta un attimo. Hunter mi ha appena invitato a fare il bagno insieme a lui. Ma potrebbe essere che Hunter... Keitaro? Keitaro? Sì, sì, andiamo, andiamo a fare il bagno. Ok. Ok. È qui che avvengono le cose magiche. Gli altri non sono ancora tornati. Devono star finendo ancora le loro pulizie. Beh, meglio così, magari mi vergogno di meno se siamo soltanto noi due. Lui? Davvero? Perché? Beh, perché non mi dispiacerebbe fare un bagno da soli, noi due. L'altro giorno era un po' l'imbarazzo, ma non mi dispiacerebbe fare un bagno con te. Davvero? Pensavo che tu fossi semplicemente molto timido l'ultima volta. Beh, sì, quello è perché c'era anche altra gente, no? Per qualche motivo mi sento più a mio agio se siamo da soli. Con te non mi sento timido. Ah, ok, eh, eh. A proposito, Hunter. Che c'è, Keitaro? Ho pensato a quello che hai detto prima, sul fatto che avresti voluto conoscermi tempo fa. Che cosa volevi dire? No, niente, è solo che non ho mai avuto degli amici molto stretti come puoi essere tu, ecco. E sapere che anche tu mi vedi come un amico mi ha fatto capire che avremmo potuto divertirci tanto in passato se soltanto ci fossimo conosciuti prima. Ah, mi sa che non ha capito cosa gli stavo chiedendo. Forse se gli dicessi cosa ho fatto nella doccia qualche giorno fa capirebbe. Hunter, io devo rivelarti una cosa. Che cosa? L'altro giorno, quando abbiamo fatto la doccia tutti quanti insieme, io sono colso via tutto imbarazzato. Ah, quello? E in effetti eravamo tutti un pochino sorpresi. Abbiamo soltanto pensato di averti messo in imbarazzo con gli scherzi troppo pesanti che stavamo facendo. E per questo che sei scappato via? No, no, non era proprio per quello. Ah, no? Era perché vederti nudo mi ha fatto emozionare. Emozionare? Cioè, nel senso che, sì, in quel senso è imbarazzante dirtelo, sai. Tu ti sei mai sentito così prima d'ora? Eh, sì, però io... Ha messo la mano sul pacco di Hunter. Ma a Katero, ma che cavolo fai? Katero! Scusami, però ha sentito che Hunter ha avuto una certa reazione a questo tocco. Lo sapevo, lo sapevo, gli piaccio anch'io. Allora, il video finisce qui. Prima che mi venga un attacco di panico, devo andare a chiamare Triton e Mino. Perché non so che cosa sape succedere, ma tutto questo inizia con una mano sul pacco. Non promette nulla di buono. Quindi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento. E... Alla prossima! Con chi? Detene no, ciao! E mi raccomando, ditemi nei commenti che cosa cavolo hanno messo nella droga, volevo dire, nell'arte di Katero. Per essersi svegliato così all'improvviso con queste voglie da top. Ciao, ciao! Ciao, ciao!